E allora anche oggi cominciamo quest'ultima puntata con un grande faccia a faccia, buonasera e benvenuta nel salotto di effetto notte a Sabrina Impacciatore, buonasera, è anche un grande piacere a lei che ci fai un po' diciamo da madrina al contrario per quest'ultima puntata. Allora Sabrina Impacciatore insomma non ha bisogno di presentazione, è un'attrice amatissima, ti ricordiamo al cinema in tantissimi film, dall'ultimo bacio a signorina F e stai per arrivare al cinema con 18 anni dopo di Edoardo Leo. Allora che cos'è che ti ha spinta a partecipare Sabrina? Mi sono innamorata. Di lui? No di Edoardo no perché ormai siamo quasi fratelli, ci conosciamo da tantissimo tempo, però mi sono innamorata della sceneggiatura quando l'ho letta perché è stata una delle rarissime volte in cui leggendo da sola sul divano di casa piangevo, ridevo e ero veramente preda di crisi emotive. Infatti l'ho chiamato in lacrime, piangevo come una pazza quando l'ho chiamato e ho pensato questo film possiamo solo peggiorarlo interpretandolo perché veramente mi piaceva molto la sceneggiatura. Beh direi che non è andata così, tra l'altro la storia lo sentivamo anche nel nostro sommario ai elementi di Commedia ma anche elementi più drammatici, c'è questa frizione tra questi due fratelli in seguito a un fatto drammatico nella loro vita, non si parlano per tanto tempo, si ritrovano dopo 18 anni più o meno in questo viaggio e tu che ruolo interpreti? Io interpreto il ruolo di Mirella che sarebbe la moglie di Mirko che è interpretato da Edoardo Leo che è anche regista e sceneggiatore del film e Mirella è una donna, innanzitutto una delle cose che mi è piaciuto di più è interpretare finalmente una romana, una romanaccia di Roma, una Roma che insomma non mi era mai capitato di incontrare nel cinema e quindi la Roma della periferia. Mirella è una donna di periferia, giovane mamma sposata da moltissimo tempo, quindi è un rapporto lungo e anche per certi versi un po' stanco e quindi lei sente in qualche modo che il suo uomo non è evoluto, non è cresciuto, è come rimasto incastrato in qualcosa che lei non si spiega e che ha bisogno di scoprire, c'è un nodo da risolvere e infatti ci sarà un viaggio parallelo. Un viaggio che è un viaggio che compiono i due fratelli e un viaggio che compio io insieme al loro nonno e che porterà a tanti cambiamenti. E anche a qualche sorpresa, lo vedremo tra poco nelle clip e ancora una curiosità, mi sembra che comunque con Edoardo Leo tu sei anche amica, insomma non è soltanto un rapporto. E quindi come ci si trova poi sul set quando è così? Insomma si riesce a rispettare i ruoli, un po' le divisioni, insomma perché il regista è il capocantiere. Massimo rispetto per la figura del regista, Edoardo devo dire mi ha veramente sorpresa perché lo conosco come amico e lo stimavo come attore ma sinceramente non mi aspettavo un simile talento. Secondo me è nato un nuovo regista, ha anche il carattere per fare il regista e poi aveva le idee chiarissime, aveva sempre la temperatura del film. Mi sentivo in mani sicure, quindi è stato un bellissimo modo di lavorare insieme. Allora tu sei attiva su tantissimi fronti e questa devo dire è una cosa che in Italia non accade spesso perché si è attiva in teatro, si è attiva in televisione. Televisione in passato, adesso l'ho abbandonata, però insomma c'è stata. Ecco e poi al cinema naturalmente, quindi questa commissione è possibile anche in un sistema come il nostro dove poi ragionando un po' per etichette. Che diventa la tua ragione di vita, nel senso che il mio obiettivo è stato proprio questo di non essere etichettata in nessuna forma. Siccome mi sono accorta che comunque c'era la tendenza a trovare una definizione, per esempio quando facevo televisione sentivo che c'era la tendenza a darmi una definizione o a identificarmi con un personaggio e io sono una persona che soffre tantissimo le gabbie e che si ribella continuamente alle definizioni, questo in generale nella vita. E quindi ho lottato strenuamente nel mio lavoro cercando di fare scelte che mi portassero il più lontano possibile dalla cosa appena fatta. E quindi è stata una faticaccia immensa, però io adesso riguardando il mio curriculum che sembra quello di una schizofrenica mi sento appagata, sono contenta e adesso magari non lo so, farò la rock star. Beh non si sa mai, tra l'altro il teschio forse prelude a questo, ma non so se la regia ce lo può mostrare, c'è un delizioso pendente. Bene, allora a proposito di cambiamenti, tu dici scherzosamente di schizofrenia, c'è anche stata l'esperienza del concerto del primo maggio, abbiamo preparato delle foto, io credo è una grande soddisfazione, insomma non so ti va di raccontarcela nel poco tempo che abbiamo a disposizione. Sì, è stato un grandissimo, immenso onore essere la prima donna nella storia di questo incredibile concerto, ad avere la conduzione tutta per sé, è stata una sfida che io tra l'altro ho sollecitato, perché ad un certo punto quando loro mi avevano proposto mi avevano chiesto chi vorresti come partner, c'erano varie possibilità, io in un giorno di totale pazzia ho telefonato e ho detto, beh io vorrei farlo da sola, mi sentirei di farlo da sola. E ti hanno accontentato. E loro incredibilmente mi hanno accontentato, io un minuto dopo mi sono pentita, ma ormai era già troppo tardi, poi me ne sono pentita per sempre, però è stata un'esperienza veramente che considero una delle più importanti di tutto il mio percorso. Senti, invece Sabrina, un desiderio che non si è ancora realizzato, comunque anche parlo semplicemente, lavoro per esempio con un regista, no? Che magari manca. Eh, ce ne stanno tanti. E uno ce lo puoi dire? Beh, ma se uno fa i nomi poi sembra proprio, non lo so, non mi sembra una cosa elegante. Però ecco, posso dire che in genere la mia aspirazione è di lavorare con i talenti veri e con gli artisti veri. Quindi tutti i registi che sono veri artisti e veri talenti, ecco, mi piacerebbe lavorare con loro. Abile, risposta molto diplomatica, va bene, allora concludi. No, ma come faccio a dire allora? Guarda, io ti direi quello, quello, quello. Va bene, va bene, allora ci vediamo intanto il film che sta per arrivare al cinema 18 anni dopo, eccolo qua. Se sentite il telefono di casa vostra squillare, rispondete, perché chi risponderà e dirà pronto Magalli potrà vincere, pensate a quanto è arrivato il Montepremi, 150.000 euro. Io adesso chiamerò un numero dell'elenco abbonati e se voi fra un'istanza, ecco, ora sentirete suonare il telefono di casa vostra, è molto probabile che sia io. Correte e dite pronto Magalli, sta squillando. Mi raccomando, fate una corsa, raggiungete il telefono perché non possiamo farlo squillare più di cinque volte. Ora che hanno un certo squillare, non rincorre, datevi da fare. Mi raccomando, se siete in bagno, uscite, rispondete, poi finite dopo, insomma, l'importante è arrivare al telefono e pensare la risposta giusta, pronto Magalli. Il quarto squillo è l'ultima possibilità, dopodiché dovrò chiamare un altro. Rispondete, su. Pronto Magalli? Complimenti, l'ha detto, l'ha detto, bravo, complimenti. Giancarlo. 150.000 euro ha visto, 150.000 euro. Ah. 150.000 euro morto. Ah. Grazie. Non è niente, era un gusto il fioraio a chiesa e pronto. Partiamo subito e ci leviamo questo tetto, pure niente. Vabbè, io non posso venire... È un no? Vabbè. Ah. Scusa, dove... Non guido. Scusa, ma... Hai capito? Io non la posso guidare questa, non... Non ci... Eh, la faccio. Maglio così. Io già ho bisogno di capire. Io non ce la faccio più. Mirko è come se ci avesse una spina in mezzo alle tempi e non se la vuole levare. E adesso che è morto pure Marcello io ho paura. Perché Mirko è fermo, è bloccato. Balbetta sempre di più, me l'ha visto? Ha sentito? Sì, sì, sì. Lui se potrebbe aiutare non lo fa. E poi scusi, ma guardi qua. Ma sto vicino a casca a pezzi. Ma noi siamo pieni dei debiti, non ce la facciamo più andavanti. Io vado due giorni a settimana a fare con me e stiamo a che ci fanno. E lui non se ne rende conto. Lui è come se ci avesse sempre al destra da un'altra parte. Il suo problema è sempre in alto. Io io ho beno a Mirko. Però non so più come aiutarlo. Io devo sapere che è successo il giorno dell'incidente. Io ho beno. Io ho beno.